3, 2, 1 Sono molto felice di potervi dare una bellissima notizia per me ed è quella che questo libro che è uscito circa 9 mesi fa ha già raggiunto le 3.000 copie vendute è un risultato senza precedenti nel nostro settore probabilmente nessun libro che tratta gelato anche dal punto di vista tecnico è riuscito a vendere così tante copie in un periodo così breve tenuto conto appunto che è uscito all'inizio dell'estate dell'anno scorso e non è stato promosso quest'anno faremo insieme al suo food editore un tour di promozione che andrà a toccare circa una ventina di gelaterie in tutta Italia e all'interno di questo percorso parleremo di quelle che sono le scoperte che abbiamo fatto insieme al CNR di Bologna durante gli ultimi 3 anni di studio che sono anche contenute naturalmente dentro questo libro si tratta quindi di eventi di degustazione gratuita per il pubblico messi a disposizione dalle gelaterie che hanno deciso di aderire a questo evento io sono molto felice di poterlo fare e di potervi incontrare il tour partirà quindi l'11 di aprile da Firenze Firenze è patria del gelato andremo a fare un po' di esercizio di degustazione coinvolgendo il pubblico divertendoci facendo anche delle degustazioni cieche quindi con la mascherina cercheremo di scoprire anche quelli che sono gli ingredienti all'interno di alcuni gelati creati apposta quindi vi invitiamo a prenotarvi perché i posti saranno comunque sempre limitati grazie ancora del sostegno e ci vediamo presto in Giro per l'Italia